San Carlo Luanga e compagni. Carlo, domestico del re Munga del Muganda, oggi provincia dell'Uganda, ricevette il battesimo dai padri bianchi nel 1885. Venuto meno il favore verso i cristiani, nel 1886 il re Munga ne ordinò la soppressione e condannò a morte 16 giovani figli di notabili. Si calcola che oltre 100 cristiani furono trucidati in Uganda tra il 15 novembre 1885 e il 27 gennaio 1887. Dopo la persecuzione, l'Uganda conobbe una fioritura del cristianesimo, come forse nessun altro paese dell'Africa. Carlo Luanga è stato designato da P. XI nel 1934 patrono della gioventù dell'Africa cristiana. Grazie. 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 Grazie.